Nuova settimana, nuovo Bazz, foto creativa per un flacone di protezione solare di un grande brand. Andiamo sul fondo del mare con Lancaster. Il mio nome è Luca, sono un imprenditore digitale che dà vita ad idee creative per aziende che mirano a togliersi dal tedio. Fondatore anche di questo piccolo raggio creativo che ci porta dietro le quinte di qualche lavoro digital, LangaBazz. Oggi ricreiamo il mare in studio, d'alco, qualche conchiglia, acqua e un phone. Pronti? Pazziamo, forza! Pronti? Pronti?